Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di privacy web, nello specifico privacy con Chrome, il browser di Google. Spesso visitate dei siti che non volete e vengono visti dalle persone che utilizzano il vostro computer e vivete proprio con l'ansia di cancellare la cronologia di navigazione, perché in effetti la utilizzate spesso e quindi non volete che il sistema non salvi i siti che visualizzate. Ebbene, questo video fa proprio per voi, vi farò vedere un piccolo trucco su Chrome, un trucco che è possibile tramite un componente aggiuntivo che per quanto riguarda la privacy è estremamente potente, che vi permetterà di cancellare automaticamente o manualmente tutti i dati sensibili della vostra navigazione in Chrome con un unico click. È una cosa estremamente comoda per chi condivide un computer, per esempio. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di TechFanPage. Per salvaguardare la privacy della propria navigazione e dei propri dati personali utilizzeremo un componente aggiuntivo per Chrome estremamente potente, si chiama Click & Clean ed è disponibile direttamente nel sito degli sviluppatori, il link ovviamente sarà nella descrizione del video. Una volta scaricato e installato il plugin comparirà una nuova icona in alto a destra in Chrome, icona che cliccata aprirà un nuovo menu con il quale sarà quindi possibile gestire il componente aggiuntivo. Il mio consiglio prima di tutto è quello di andare nelle impostazioni del plugin in modo tale da scegliere nello specifico cosa eliminare automaticamente con un unico click e una volta effettuata le proprie scelte tutto quello che dovrete fare per chiudere il browser ed eliminare quindi tutti i vostri dati personali e cliccare sull'icona rossa posta in alto a sinistra per chiudere il browser di Google e eliminare automaticamente tutti i dati relativi alla vostra navigazione web. A questo punto avete visto che si tratta di un plugin estremamente potente, la personalizzazione anche è molto alta nelle impostazioni, avete visto che si può scegliere nel dettaglio cosa eliminare e cosa non eliminare ed è possibile comunque automatizzare anche il processo di eliminazione di tutti i dati sensibili di Chrome, quindi non solo magari della cronologia software ma anche per esempio dei cookie, dei documenti salvati, dei file relativi alla propria identità, insomma tutti quei file che vengono memorizzati nella memoria temporale del browser possono essere eliminati immediatamente. Io sono Dario Caliendo e appuntamento al prossimo video di TechFanPage. Grazie a tutti.